Rubano in un distributore, fanno una sosta snack e poi tornano a rubare, ma vengono arrestati. Doppio assalto nella notte ad Arezzo, nelle mire dei malviventi, tutti ventenni, un distributore di benzina e un campo sportivo. L'allarme è scattato attorno alle 5.30 quando i banditi, incappucciati, sono stati notati da un passante all'interno della sede della società Olmo Ponte, che ha allertato il 113. Prima i malviventi avevano avuto il tempo di saccheggiare la cassa del distributore Mazzi e rubare anche generi alimentari, che avrebbero poi consumato nelle tribune del campo sportivo, prima di mettere a segno il secondo furto. Ad intervenire sul posto, le volanti della questura di Arezzo, assieme al nucleo radiomobile dei carabinieri, che hanno immediatamente individuato i responsabili. Dopo una fuga rocambolesca, prima con le auto poi a piedi, le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare i malviventi. I manette è finito un 22enne con numerosi precedenti penali, anche il secondo autore del furto, un rumeno di 23 anni, è stato fermato per lui, è scattata la denuncia. Il terzo, invece, è riuscito a darsi alla fuga. Durante l'inseguimento, i due si sono disfatti degli zaini, recuperati poi dagli inquirenti. All'interno, denaro contante, vari capi di abbigliamento e generi alimentari. Negli zaini è anche tutto il necessario per portare a termine i colpi, arnesi da scasso, passamontagna, guanti e torcia frontale. I furti sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.